eh? eh? oggi è un buongiorno 12.9 e oggi non devo giocare in divisione, bella sono batman cazzo ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Crisabo, il canale per chi è nabo, signori siamo tornati anche oggi su best 2017 e come avete letto dal titolo oggi ci facciamo un bollopering perché oggi è il mio compleanno ovvero se non ho fatto male i calcoli questo video dovrebbe uscire di martedì e martedì è 18 e il 18 è il mio compleanno grazie a tutti quelli che lasceranno gli auguri, lo dico già da adesso, non so a che ore ci sarò per per ringraziarvi, diciamo, a quelli che lo faranno ma va bene, va bene, sapete, prima o poi mi connetto e rispondo a tutti prima di iniziare, signori, perché me l'avete chiesto in tantissimi intanto oggi, no? c'ho anche il cappello perché l'ho comprato apposta per 2,50 euro l'ho comprato apposta perché non avevo voglia di pettinarmi no, perché se togli il cappello, guarda, guarda, ma chi se ne frega quindi mi sono comprato il cappello, ho detto che mi metto il cappello così quando devo registrare è scialla, e va bene signori, prima di iniziare dicevo, volevo fare una cosa che mi avete chiesto giorni fa ovvero salutare Hartman Maggiore che segue sempre in tutti i miei video mi lascia il commentino, eccetera, eccetera quindi devo salutare lui e tutta la Puglia e quindi un saluto a tutta la Puglia e Hartman Maggiore e poi mi ha chiesto di salutarlo anche un altro ragazzo che si chiama Cristian e quindi Cristian, ciao ciao va bene signori non perdiamoci in chiacchiere io ieri, cazzeggiando, ridendo e scherzando, come si suol dire ho fatto 51.000 GP però c'ho anche 4 agenti, già, no? European National Team Stars South American National Team Stars National Team Stars per 2 ma quindi abbiamo già 4 agenti qua più 50.000, sono 90 che fai? non te la fai un giro? te lo fai, te lo fai io direi di iniziare subito vi devo ricordare anche di fare la sincronizzazione ma la farò quando schiaccerò il pulsante intanto ci giriamo questo che non si sa mai guarda come si fa l'asincro guarda schiaccio adesso vedi, ma perché? perché devono capitare tutti gli argenti quando clicco io? c'erano muri e argenti misti schiaccio e mi becco l'indeloff mi becco l'indeloff ma perché non muori? fra 2-7-0-3 si è unito in party ciao fra 7-2-0-3 7-2-0-3 allora cosa vorrei trovare in questi agenti? in questi un pallone nero siccome è il mio compleanno pes non fare lo stronzo lo so che lo sto registrando prima però tu devi guardare in proiezione pes quindi non me ne frega un cazzo pes dammi un pallone nero tipo adesso è argento ah no no è oro va bene lo stesso avevo visto un sacco di argenti ho detto no è oro è oro chi è? chi è questo? Lucas Lima ma io di Lima ne conoscevo uno che cantava una canzone strana se la trovo ve la metto ve la metto ve la metto era abbastanza no va bene cappellino da gangster cazzate come sempre è altro che 28 anni questi cazzi national team stars questo ce lo guardiamo perché i giocatori che ci sono qua chi voglio io nel mirino non c'ho noier perché mi piacerebbe provarlo non averlo ma provarlo sanchez perché ce l'ho avuto su xbox one ed è molto molto buono hazard perché è un centrocampista laterale sinistro puro palla nera e poi vorrei william perché è un centrocampista laterale destro puro palla nera gli altri courtois ok è buonissimo miranda chi cazzo è ma mori male cioè no nel senso quattro giocatori si può dire noier sanchez hazard e william uno almeno ce lo darà no e dai non siate così pessimistici pessimistici schiaccio guarda che l'ho passato porco 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 dai ma non ci credo bezauze giur ma che cazzo è almeno dammi gli allenatori speciali che c'ho Cristiano Ronaldo a livello 49 c'ho cazzo ingaggia ingaggia un'altra sicro perché non si sa mai schiaccio adesso ho schiacciato su una nera ho schiacciato tantissimo su una nera e ci becchiamo un argento perché siamo delle teste di K e quindi chi è Gutierrez salve aggiunge ai membri non so neanche chi sia allenatore speciale questo mi piace va bene bella va bene abbiamo 5 giri guarda non è aumentato manco per il K affra però e dai è la terza volta da quando ho iniziato a registrare e che cazzo è sempre in festa vai con sti party e dai e si allora io 50.000 GP ce li butto su questo agente vediamo se abbiamo culo conferma vai questo è il primo giro con i GP non hanno una musica non hanno niente ma che sfigati sono questi giocatori di questo agente è un altro oro è un altro oro e va bene chi è? scar char sci sci carta canta non c'è bisogno di presentarli andiamo avanti potrebbe anche essere buono io non lo so lo proverò naturalmente contro Marco perché queste si provano contro Marco perché lui la cavia per provare i giocatori per le varie divisioni 4 stelle 5 stelle e comunque no va bene schiaccio Rocco Rocco ho preso Rocco che non è Siffredi perché uno dice no Rocco Siffredi cioè no 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 ho preso Rocco la versione cinese probabilmente abbiamo ancora 3 giri se non sbaglio e dai guarda 3.2 ma sono già contento sono non riusciremo mai a prenderlo a meno che non ci scappi una botta di cuore e non riusciremo mai a prenderlo io vado a schiacciare tipo ok uno l'ho visto un altro l'ho vista fammene vedere un altro l'ho vista schiaccio qua escono solo argenti solo argenti quando schiaccio io solo argenti guarda è questo Zapata ho preso Cristian Zapata Cristian cazzo Zapata ho preso aggiunge i membri quanto son contento almeno mi da l'allenatore speciale che Ronaldo spostati le porta 50 spacchiamo il mondo vai lo lascio girare lo lascio girare guarda me la svappo me la svappo lo vedete lo vedete che come schiaccio io escono solo argenti c'è mercato mercato l'avevo preso lo scorso ball opening l'avevo preso e l'ho mandato via tantissimo perché mi stava un po' qua no e dai ho l'ultimo giro vuoi vedere che pezzo non mi fa manco il regalo di compleanno vuoi vedere che è talmente bastardo che non me lo fa io vado ok mi faccio un'altra svappata 50 50 50 vado a schiacciare nera nera adesso daaaai dai dai ho preso Bruno Alves sorpreso ma che schifo con i capelli bianchi va bene signori va bene io comunque sono contento non vado al menu perché non voglio spoilerarvi una cosa ovvero che ho fatto una partita non l'ho registrata perché non so come spiega io stavo sentendo Marco non dovevo provare una squadra stavo sentendo Marco Marco mi ha detto arrivo fra 10 minuti e allora ho fatto la squadra e ho detto vabbè dai nel mentre che aspetto Marco mi faccio una partita in divisione tanto non la vincerò mai no e invece e invece lo scoprirete domani perché sono un bastardo e adesso non ve le dico queste cose signori signori io come sempre spero che il video vi sia piaciuto spero di avervi almeno intrattenuto e strappato 10 minuti alla vita quotidiana di tutti i giorni come il mio solito intento di fare ditemi cosa ne pensate del cappello cosa ne pensate della magliettina di sono Batman e cosa ne pensate del mio compleanno no non lo voglio sapere perché tanto i compleanni vanno e vengono no ne fai uno all'anno quindi per forza li devi fare non puoi dire quest'anno lo salto piacerebbe a qualcuno soprattutto alle donne no che scrivono meno anni nella carta lascia stare signori noi ci vediamo domani con un nuovo video se il video vi è piaciuto come al solito io vi chiedo di lasciare un bel mi piace di lasciare un bel commentino qui sotto e di iscrivervi al canale ho visto che siamo arrivati a 390 iscritti quindi saluto anche tutti i nuovi iscritti vi chiedo anche di condividere i video se vi piacciono postateli su Instagram su Facebook sui diari delle nonne no dove volete signori ci vediamo domani con un nuovo video ricordatevi di divertirvi e che in fondo siamo tutti un po' nabbi adesso vado a registrare Assassin's Creed perché non ne ho non ne ho bella signori bella ciao iscriviti al canale grazie a tutti